ciao popolo oggi un video un forse un po strano oggi voglio fare un discorsetto se vale la pena o non vale la pena iniziare la filatura quindi andare in bisellatura con le pietre naturali e quindi poi con tutta una serie di cose che conseguono ma come al solito dopo la sigla eccomi qua scusate allora mi era venuto in mente mi è venuto in mente questo video dopo una telefonata fatta con un amico stavamo parlando sull'utilizzo delle pietre sintetiche delle pietre naturali ve lo faccio corto il pippotto ha senso oggi come oggi fare una filatura tutta sul naturale partendo dalla bisellatura per arrivare fino alla finitura usando solo pietre naturali oppure ha più senso fare tutto il lavoro con le sintetiche lasciando come pietra naturale solo quella l'ultima quella da da finitura quella che darà il carattere alla lama ma la risposta non è semplice e non è neanche scontata perché se la stessa domanda fosse stata fatta 20 o 30 anni fa la risposta sarebbe stata beh no con le naturali e molta più scelta decidi tu da dove partire come partire che marchi da filatura dare il carattere alla lama da subito ma 30 anni dopo oggi come oggi ci sono delle sintetiche spaventosamente buone sintetiche efficientissime che non hanno paura di nessun tipo d'acciaio per cui con due passaggi una sintetica di basso grit per bisellare una sintetica di medio grit per fare la filatura vera e propria si fa tutto qui due sintetiche e ovviamente una naturale poi in finitura quello spero che sia scontato perché insomma farsi la barba con un filo creato su una su una sintetica o peggio padre su una pasta per carità di dio quindi oggi come oggi le sintetiche sono tante sono buone e tanti maestri anche in giappone stanno abbandonando un po la vecchia via la via più tradizionale per darsi alla filatura su sintetica su pietra sintetica lasciandosi solo la miglior pietra naturale per fare la finitura ultima io mi metto un po in mezzo e dopo di che qui ho preparato delle pietre e sono pronto a farvele vedere aspettate dove sta l'inquadratura eccola qui vedete poi ne parliamo un attimo al volo e le proviamo anche un attimo al volo perché anche qui c'è il solito rasoio pronto sotto il microscopio eccomi qua allora io mi metto un pochino in mezzo è vero fare una bisellatura con una 3000 sintetica magari buonissima che non so una niva pro 3000 è un attimo e viene un bevel sicuramente perfetto ben accuminato ben tagliente poi ci metto sempre di buona marca una bella 8000 sopra e mi tengo la finitura li tiro fuori dal cassetto la mia pietra di pregio la pietra con cui vado più d'accordo che la mia pelle gradisce di più c'è un però la pietra naturale già in bisellatura da una pastosità quel bevel da un tipo di finitura che benché grossolana è una finitura ed un filo ben più aggraziato del filo che può tirare fuori una sintetica per quanto di pregio sia quindi poi partendo da questo filo già ben rifinito già con dei marchi non troppo evidenti marchi di affilatura non troppo evidenti con un bevel con scusate con un filo sfrangiato alla maniera delle naturali per cui con una sfrangiatura molto irregolare salendo e salendo sempre a questo punto sul naturale si arriva alla pre finitura con un filo e un bevel praticamente quasi perfetti e a quel punto la pietra da finitura lavora nelle migliori condizioni si creano dei fili meravigliosi voglio dire il marchio dell'8000 per quanto di marca sia poi c'è sempre una certa difficoltà a cancellarlo ma arrivare a 8000 senza marchi o con pochissimi marchi appena accennati è tutto un altro discorso basta ho chiacchierato troppo fammi vedere 5 minuti e 45 di pippotto dai ragazzi ho fatto sicuramente di peggio nella vita quindi andiamo al piano di lavoro vi ho fatto vi ho portato una piccola selezione di pietre da bisellatura sanno tantissime altre ma solo per darvi un'idea allora un naturale uno mura ecco questa è una pietra molto molto aggressiva si riesce a vedere già dalla porosità questa è una pietra più che altro da correzione quando c'è un una cippatura sul bevel quando il filo ha preso qualche tacca ha urtato insomma quando c'è da correggere un problema questa è la pietra per asportare il materiale infatti oggi non la userò quel rasoio che avevo fatto vedere prima sotto il microscopio è un gold dollar quindi con un acciaio molto morbido ecco queste invece sono pietre straconosciute quindi questa sicuramente la classica amacusa bianca il classico sottovaso per qualcuno la classica amacusa bianca quindi un grit stimato grit equivalente chiamatelo come vi pare insomma è come se usaste un mille mille due poi dipende dalla cava dalla prefettura di kumamoto hanno tirato fuori diversi materiali quindi dalla macusa bianca alla binsui per esempio una shiro binsui già potrebbe arrivare fino ai 2000 quindi se sulle naturali grit è sempre un terno all'otto l'area è quella poco sopra al mille questa invece sembra una maxi asano shiro nagura in realtà se ce la faccia inquadrarvelo è un ioto è troppo vicino non riesce a prendere la messa a fuoco vediamo se comunque fidatevi è un ioto qui ecco siamo sul dal mille siamo passati al 2000 ma non di più e questa l'ultima eccola qua la metto qui in mezzo per farvela vedere è un i carasci stesso più o meno glitteri allora perché ne hai prese due ogni pietra il suo carattere ogni pietra dà il suo marchio io poi questa l'ho presa e l'ho lappata su un fianco vedete se questo lato sarebbe stato anche più largo però ho preferito la parla su un fianco per avere una pietra molto stretta visto che stiamo parlando di un grit abbastanza grossolano anche con questa pietra io riesco a fare delle correzioni in affilatura magari andando a filare o più in punto andando a filare ad affilare un po più sul tallone insomma la pietra stretta ti permette di lavorare su una zona del rasoio su una zona del bevel del rasoio che mediamente è sui 7 centimetri questa è l'icarasci bellina anche lei adesso vi voglio solamente far vedere il diverso carattere delle pietre per cui molto brutalmente un po d'acqua nastrofinatina con una diamantata per fare è che non si fa perché non si però diciamo che sulle pietre più grossolane è peccato veniale io comunque ragazzi uso sempre questo tipo di diamantata sulle pietre quindi quelle sabbiate e anche ben consumate qui sto sul lato questo è una sciarpa sul lato non so se di ecco qua sul lato 3 25 la quest'altro lato vedete praticamente liscia un lato 1200 ma si rallenterebbe troppo la pietra per cui ciancia le bande un po di acqua una strofinatella quella diamantata per tirare fuori un po di sospensione che poi non è che ne serva chissà quanto siamo in bisellatura per cui non dobbiamo neanche aver paura di essere troppo aggressivi a noi ci serve queste sono pietre che noi tiriamo fuori dal dai scaffali tiriamo fuori dai cassetti per impostare un bevel ma un bello non è che si va a impostare ad ogni affilatura io dico sempre non è che tutte le volte che il rasoio non taglia più bisogna riandare con la bisellatura basta far rifare la finitura nel 90 per cento dei casi si affilate spesso se non affilate spesso allora anziché fare solo la finitura si riscende fino al medio gritto si riscende fino alla pre finitura a un 7 8 mila parlando di sintetiche o pietre equivalenti sulle naturali quindi adesso vi voglio far vedere un attimino tre tipi di lavoro diversi di tre pietre da bisellatura perché ripeto ognuno ognuna lascia i suoi marchi ognuna lavora sull'acciaio in modo diverso e questo è diciamo il vantaggio l'unico forse del dell'iniziare la progressione sul naturale anziché sintetica e vi ripeto con la sintetica tutto diventa più facile tutto diventa più prevedibile guardate intanto solito giochino sto rimanendo sempre sullo stesso punto per caricare di limatura guardate intanto quanto è veloce a quanto può essere veloce anche una naturale guardate quanto quanta limatura si è portata dietro adesso faccio un po di passate per uniformare adesso non è che ci interessa alla perfezione questo è il solito col dollar da battaglia ormai mi ha comprato la riexpress a pacchi da 4 no direttamente infatti c'è ancora un paio intonsi nella scatola adesso ne sto brutalizzando due quando li avrò distrutti ne brutalizzo altri due quindi guardate come guardate come mangia quindi sfadiamo il primo mito con la pietra sintetica si fa prima no anche con una buona naturale c'è tanta asportazione di materiale in breve tempo la differenza qual è ve la faccio vedere subito allora mi serve un pezzo di carta non ho preso la sintetica ma io spero che tutti abbiano in mente come può venire fuori all'osservazione che non serve sempre il solito microscopio basta una lentina abbassa qualche cosa del genere insomma tutti sanno che cosa tira fuori sul bevel e sul filo una sintetica di basso grit e adesso voglio far vedere guardate a basic guardate se non vi cambio l'inquadratura allora la vedete aspettate che adesso ve la schiarisco pure un pochettino ecco qua vedete stiamo parlando di una pietra da impostazione stiamo parlando di un ipotetico mille mille due guardate quanti pochi marchi di affilatura ci sono come sono leggeri è chiaro sono disordinati perché se avete notato sicuramente l'avete notato spero andava a cerchietti per cui qualche marchio è venuto in un verso e qualche marchio è venuto nell'altro verso il movimento era circolare per cui è ovvio che ci siano marchi di affilatura che vanno verso destra e marchi che vanno verso sinistra però intanto guardate a e come al solito lo ridico sempre siamo i famosi 320 per 320 ingrandimenti scusate non 320 per 320 ingrandimenti ottici per cui guardate come sono delicati appena accennati e guardate soprattutto il filo perché non è quello che ci interessa è il filo quindi vedete un bel filo da bisellatura un bel filo che si sta impostando in questo momento quindi sfrangiato ma guardate come è sfrangiato non sfrangiato monotono aspettate con tutte le creste uguali pari 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 stessa altezza delle creste stessa distanza tra cresta e cresta perché quello fa una sintetica riguardate di nuovo vedete il il filo grossolano irregolare ma è brutta sta cosa no è bella sta cosa perché più la pietra lascia dei marchi paralleli profondi uguali un all'altro più è sgradevole il contatto sul viso se io parto con quel tipo di filo molto irregolare e continuo sulle naturali fino alla finitura capite bene che diventerà rimarrà sempre regolare ma via via sempre più sottile sempre più fino le creste saranno sempre più ravvicinate tra di loro e sempre più basse le gole tra cresta e cresta e quindi sarà sempre più piacevole il contatto sulla pelle adesso ritorniamo al piano di lavoro è chiaro che ci sarebbe ancora da lavorare questa adesso non non mi fate sentire le polemiche quelle inutili in un'affilatura vera questa pietra non avrebbe finito di fare il proprio lavoro questo ripeto due minuti di lavoro su ogni pietra tanto per farvi vedere un po risultato guardate non neanche messo il supportino per le pietre per cui sto veramente scomodo scusate ma spi faccio allora probabilmente dovrò lavorare con la pietra in mano adesso vediamo allora adesso una pietra sempre più o meno di quello lo stesso grit un pochettino di più un pochettino di meno ma poco cambia allora allora sempre la solida diamantata un po astrofinatina addio aspettate che no non è facile questa veramente è tipo tipo una max mica va uscire una cura in realtà con iodo però gli assomiglia tanto quindi un pochettino d'acqua e anche qui subito andiamo ad amalgamare la fanghiglia e subito anche qui un lavoretto giusto dimostrativo ecco rimango fermo sempre sul punto per fare il solito giochetto guardate che si sta creando in tempo reale guardate sotto sotto i nostri occhi stavo dicendo i vostri perché i vostri anche i miei guardate guardate com'era la fanghiglia all'inizio e guardate cosa è successo dopo dieci secondi di di lavoro quindi io continuo quindi anche questa potrebbe essere una pietra da bisellatura o una pietra da una cosa che non abbiamo mai detto da raffinatura della bisellatura ho creato il bevelle quindi ho creato i due piani che si incontrano e formano un angolo ben appuntito perché ricordo che alla fine della bisellatura quel cavolo di rasoio deve già tagliare magari raspa un po sulla pelle ma con un rasoio ben bisellato ci si fa la barba ragazzi ci si fa in una maniera non molto confortevole anzi diciamo poco confortevole ma un rasoio dopo la bisellatura deve essere in grado di far radere di farci radere oggi le parole non mi vengono eh lo so l'età l'inverno i primi freddi artrosi cervicale anche qui non vado non vado oltre do solo una sciacquatina perché veramente adesso la lama infangata tutta per cui sciacquatina al rasoio prima di metterlo sotto il microscopio e andiamo a vedere che benché siamo rimasti a spazzolare nella stessa zona di grit quindi stiamo usando una pietra sinceramente di categoria molto molto simile di granulosità di granulometria ecco facciamo quelli che parlano bene molto molto simile alla macusa intanto guardate che diavola sta pietra vi faccio vedere che sicuramente non avremo dei marchi di affilatura diversi quindi vado a cambiare l'inquadratura vado a mettere il rasoio sotto il microscopio dove becco becco allora aspettate rivedo assingrandimenti non è facile forse ci vorrà pure un po meno luce perché se no eccola qua sbarato quindi pure qua vedete ancora nei marchi di affilatura diversi ancora un bevel molto 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 sfrangiato e vedete che siamo lì che cosa cosa ci viene da dire alla cimata la differenza tra l'una e l'altra la differenza tra l'una e l'altra sa nella velocità allora aspettami mi cambio un attimo di nuovo inquadratura eccole qua nella velocità di abrasione guardate quanto è stata molto più veloce lioto rispetto alla macusa bianca ma la macusa al tatto è più dura ed è più chiusa più compatta come pietra quindi questa diciamo è per acciai ostici per acciai che hanno bisogno di qualche cosa di più un pochino più aggressivo nel lavoro e questa invece con acciai diciamo che si fa ben temprati ben lavorati soprattutto dall'artigiano con una buona tempra un buon rinvenimento che si fanno lavorare con semplicità questa è micidiale perché pur essendo una 1200 poi è molto molto fine voi mi avete visto usarla a fangheglia ma dopo la fangheglia bisognava diluirla lavorare un pochettino quasi ad acqua pulita e quei marchi si sarebbero raffinati molto quindi ritornando qui vedete che la ioto invece ha una capacità di asportazione del materiale molto molto forte però insomma se vedete cerco di concentrare la messa a fuoco sul filo fregandocene del bevel comunque vedete quello che vi stavo ho cercato di farvi notare prima guardate il filo non state troppo a guardare il bevel guardate quel filo e guardate che bel filo variegato movimentato non uniforme c'è non monotono non schematico quindi questo è un filo che portato su ripeto poi con un medio gritte naturale poi con un ottomina naturale fino ad arrivare su su alla pietra ognuno c'è la pietra sua di preferenza questa è la base di partenza per un rasoio affilato dolcemente poi alla fine faremo le considerazioni adesso una pietra che io ho tutto sommato da poco ma che a me piace tanto l'ikarashi l'ikarashi che è una pietra per me magica ha un fascino guardate essi ha già qualche cosa di verdino ma guardate una volta bagnata come diventa veramente verde verde acceso bella 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 con un motivo range di fiori bella questa andava forse bagnata per qualche secondo qualche forse un minutino prima di metterla al lavoro comunque anche qui ripeto questa ve lo stavo dicendo nemmeno sono io dico le cose a metà lo stavo già dicendo nella nell'anteprima questa io l'ho voluta la pare sul fianco per avere una pietra stretta su cui lavorare questa è la classica pietra che uso per correzione quindi vedete una fanghiglia molto molto chiara venuta fuori molto molto velocemente queste sono pietre molto morbide molto porose ripeto qui sembra veramente di affilare su una mikawashino nagura ecco avere una pietra stretta scusate la sposto la pietra mi permette di poter andare a fare delle correzioni perché posso affilare a zona zona della punta del centro del tallone adesso in questo caso cercherò invece di metterci tutto il rasoio perché a noi ci interessa di più vedere come si comporta molto molto asserata già si è asciugata tutta quanta questa forse anzi senza forse a questa un bagnetto preventivo non gli avrebbe fatto male comunque anche qui si sta caricando la limatura con una velocità però diversa diciamo che questa in tutto il gruppo in tutta la cucciolata questa è la più lenta però non so se si riesce se avete fatto caso al all'audio di prima mentre affilavo sulla ioto si sentiva un certo rumore un rumore del grattugiamento qui il rumore non c'è o se c'è appena accennato sintomo che la granulometria è maggiore quindi questa di tutto il gruppo è la più lenta ma sempre per modo di dire ma forse è più fine ripeto sempre per modo di dire perché guardate prima la sospensione era totalmente bianca era bianco latte adesso invece la vedete com'è bella grigia si è ingrigita si è ingrigita parecchio quindi diciamo che ha un attacco un po più progressivo parte un po più lentamente ma anche qui di asportazioni di materiali ragazzi ce n'è ce n'è tanta poi ripeto comodo poter fare questo comodo poter affilare sul tallone sul centro sulla punta questo per me è molto molto comodo io penso che tutti quelli che si dilettano si divertono con l'affilatura dovrebbero avere qualche pietra stretta sulla mensola per fare dei piccoli lavori di correzione per riportare avanti una zona del filo che magari rimane indietro perché il rasoio non tocca proprio perfettamente sulla pietra quindi magari a filo normalmente su una pietra di larghezza chiamiamola standard le solite pietre da 8 9 10 centimetri massimo di larghezza però mi rimane indietro la punta mi rimane indietro il tallone lavorare con una pietra stretta guardate come si lavora su una punta con facilità chiaramente anche in questo caso troppo di più ci dovrei stare sulla pietra ma io mi fermo tanto per metterla subito sotto il microscopio e fare un paragone con le altre due aspettate la sto sto pulendo stavo dando una lavatina al rasoio adesso una asciugata allora asciugata pure le mani adesso via cambiamo inquadratura e andiamo a vedere anche quella che bellezza sto cercando sempre di mettere a fuoco la parte del filo quindi vedete anche qui marchi da filatura solo leggermente accennati filo secondo me è un filo per essere uscito da da pietre che oscillano tra i mille e duemila di grit e non mi contate la parola grit in bocca perché sbaglio io a dirlo ma io sbaglio volontariamente intanto mentre vi sto facendo vedere l'immagine al microscopio sto dando un attimo una pulita alle pietre per rimetterle di pietre per rimettervele di nuovo sotto inquadratura su cosa vedete ci andiamo un pochettino a spasso vedete aspetta inquadro un'altra zona riprendo la messa a fuoco che a questo punto se perde con una facilità hai fatto caso chi c'è il marchio di affidatura in un modo chi ce l'ha nell'altro chi brillava di più sotto il microscopio segno che aveva un più potere lucidante chi brillava di meno ecco ma guardate guardate qua per esempio guardate proprio al centro dell'inquadratura aspettate che metta a fuoco cioè guardate come è questo filo dopo la bisellatura che vi rendete conto è un filo micidiale bello sfrangiato senza un movimento ripetitivo monotono senza che si riesca a individuare uno schema e comunque vi ripeto sempre il rasoio è sempre sto col dollaro il rasoio deve tagliare dopo non è inquadrato ecco il rasoio dopo la bisellatura deve tagliare sennò guardate se vede a voi vedi che saranno tutte le parti non sono rimasti pure attaccati sull'avambraccio un po quindi perché oggi ho voluto fare sto discorsetto e comunque sono riuscito a perdere mezz'ora pure oggi aspettate eccomi qua c'è un motivo oggi prende sempre più piede l'affilatura veloce c'è l'affilatura quella oddio devo affila il rasoio non medaglia devo affilare ma non tutti siamo portati per l'affilatura veloce e non tutti soprattutto affiliamo per necessità sa fila anche per piacere con un'affilatura tutta su sintetica tranne l'ultima pietra si ottiene sicuramente un'ottima prestazione di taglio si ottiene un ottimo filo perché poi comunque il carattere glielo darà l'ultima pietra l'unica da finitura che verrà utilizzata mentre partendo già con la naturale noi imbocchiamo una strada che è già segnata partendo con le naturali e vuol dire che da quel momento in poi saranno tutte naturali non avrebbe senso usare una naturale per poi mortificare tutto il lavoro inserendo una sintetica nella progressione la scaletta quindi intanto andiamo a imboccare questa strada che ci porterà ad usare tutte le pietre naturali intanto 99 su 100 la nostra scaletta sarà sicuramente più lunga non faremo sulle naturali il salto 3000 8000 come ormai è diventato standard sulle sintetiche 31 8000 ce la fa a cancellare i marchi della 3000 se ci volete mettere 5000 e mezzo ma non è necessario mentre con le naturali quel quei risultati che ho fatto vedere sotto il microscopio andranno raffinati per passaggi successivi un po come creare una lucidatura specchio sull'acciaio se parte dalla carta 220 ma poi non si va subito sulla 1000 sulla 2000 sulla 3000 bisogna fargli passaggi tutti quanti altrimenti un segno che uno non è riuscito a cancellare uno poi se lo porta avanti è inutile cambiare carta e andare a grane sempre più sottili quel segno arriverà fino alla fine per cui d'accordo la 220 la 400 la 600 la 800 la mi bisogna fargli tutti i passaggi e sulle naturali è la stessa cosa io parto da una bisellatura sul naturale poi non faccio il salto con la pietra da prefinitura poi me le faccio tutte dopo queste magari ci vado a mettere una auto più o meno un 3000 dopo il 3000 ci vado a mettere una sushima che bene o male oscilla dai 5000 7000 una momigiyama che condivide più o meno lo stesso range e dopo la momigiyama me ce vado a mettere non so una shobudani un po più grossolana che mi fa da prefinitura alta e poi ci vado a mettere l'ultima pietra quella che secondo me è la più performante andare su pietra naturali significa fare tanti passaggi con tutti i pro e tutti contro i pro che si cancellano per bene tutti i marchi si arriva a un bevel immacolata un bevel senza senza marchi di affilatura un bello è praticamente uniforme un filo perfetto i contro sono che ci vogliono tanti passaggi tanto tempo e più aumentano i passaggi su pietra più l'errore è dietro l'angolo più tempo so sulla pietra più rischio di sbagliare per cui questo di affilare con tutto il tutto sintetico è un gioco non per tutti insomma diciamo non è un non è un consiglio che si può dare a chi principia basta tutto qui ho finalmente ho fatto 37 minuti non è lungo né corto per cui alla fine stringi stringi mauro ma che hai detto ho detto ragazzi benvengano le affilature tutte su sintetica lasciando una sola naturale l'ultima per dare la finitura per dare la dolcezza è quella che ci accompagnerà in rasatura la pietra finitura ma attenzione che la vecchia via quella di lavorare tutta sul naturale sa qualche piccolo svantaggio ma c'è ancora tanti vantaggi lo svantaggio è la durata il numero di pietre che vanno utilizzate e quindi la la possibilità maggiore di avere un errore ma il vantaggio che secondo me parere mio personale un filo nato e morto nato in bisellatura sul naturale proseguito il sul naturale è finito sul naturale secondo me è un filo superiore a quello creato con la bisellatura con tutta la sequenza in sintetico e solo la finitura sul naturale sono ripetitivo e rompico modico da solo quindi spero che non sia stata una noia mortale il video come al solito io intanto messo organizzando qui mouse eccetera eccetera per cui grazie della pazienza e ci ci vediamo alla prossima ciao popolo ciao